La protezione civile di Fano con i suoi volontari è stata tra le prime ad arrivare nei luoghi devastati dal terremoto. Ore difficili in cui tutto è da impostare e mille cose sono da coordinare contemporaneamente. Allestire il campo, gestire la logistica, coordinare le persone sul terreno. Un compito delicato dove nulla deve essere improvvisato. Servono persone altamente addestrate e coordinate. Siamo con Severio Olivi che è tornato da pochissime ore da quelle zone. Che cosa c'è? Cosa si sta verificando in queste ultime ore? Sinceramente la zona è un po' martoriata, è inutile dire. Noi usciamo poco dal campo ma quel poco che siamo usciti la gente in questi casi è disperata. Gli aiuti sono tanti, si fa anche difficoltà in pratica a stoccarli. Però la gente in questo momento ha bisogno un po' più di avere qualcuno vicino, di fare una chiacchierata, di capire che prima o poi torna alla normalità. La scossa che ha dato nel pomeriggio, che noi l'abbiamo sentita a pieno, ha messo in condizioni con la strada di essere di nuovo riaperta. Quindi la prima cosa che abbiamo trovato in difficoltà dovevamo preparare i pasti per mezzogiorno. Noi a mezzogiorno siamo arrivati, pur essendo arrivati alle 8 giù sul posto, siamo arrivati per fare 3 km, siamo arrivati alle 2 del pomeriggio. Perché? Perché la strada è intesata, ecco perché si dice che eventualmente gli aiuti umanitari devono arrivare mirati, perché basta un piccolo camion. No, quando siamo arrivati ci siamo accorti poi in cima che c'erano il camion dei vigili del fuoco che mettevano in sicurezza una casa sulla strada e quindi era doveroso farlo. Noi stiamo reggendo abbastanza bene ma già dalla prossima settimana, dal prossimo mercoledì ci verranno gli aiuti volontari di altre associazioni, sempre iscritte alla regione Marche. Quindi adesso mercoledì ne partiranno ancora 10 del nostro gruppo, poi noi garantiremo andando avanti solo quelle che sono le figure chiave. Queste calamità si portano dentro anche aspetti poco conosciuti ma che sono ugualmente importanti nella gestione del dopo calamità, aspetti già vissuti di recente nel terremoto dell'Emilia. Ci vuole di tutto, le prime cose, i primi interventi bisogna farli immediati, una cosa che si è trovato subito difficoltà è reperire il materiale fresco, ma non perché non ci sia, perché lo stesso sindaco nasce un po' come Castelvecchio Calviso, è la fotocopia in pratica. Lo stesso sindaco che vai a chiedere le cose da cucinare, che sono tante durante il giorno, ti chiede ma chi la paga giustamente, perché? Perché quel piano comunale in cui c'è scritto il tutto non lo si legge mai. Però con calma, anche loro pressati, con la gente fuori con la fila, piano piano ci hanno messo quasi una mezza giornata, abbiamo fatto un modulo col timbro del funzionario della regione, col timbro del funzionario del comune, ho contattato la macelleria, la verdura e tutto il resto, ma sono prassi che vanno messi in piedi fin da subito, se non le metti in piedi subito ti trovi nei guai per tutto il tempo. Sono rientrato con dei volontari che avevano necessità, uno di questi torna giù stamattina e le cose che vedete qui sono le cose necessarie, in pratica mirate e quindi partirà subito, adesso fra un'ora di nuovo questo carico, ma già dei viaggi ne abbiamo fatti penso 4-5. Grazie a tutti!